Come terzo slot nel nostro attacco meglio un attaccante di una piccola provinciale da circa 10 gol a stagione ma anche tanti 5 in pagella oppure meglio puntare su un giocatore più costante ma con qualche gol in meno Ciao, io sono Federico Viglino e questo è ProFantacalcio Soprattutto in leghe con molti partecipanti spesso si finisce a cercare come terzo slot del nostro attacco quei giocatori non proprio di primissimo grido magari attaccanti di provinciali o di piccole magari anche neopromosse che se tutto va bene ti riescono a garantire una decina di gol oppure si può decidere di puntare sui giocatori un po' meno gol ad oro con un po' meno fiuto del gol ma che comunque giocano sempre bene e portano con costanza il 6 o 6,5 nelle nostre fantasquadre adesso andiamo ad analizzarli e vediamo insieme quale è meglio tra le due tipologie di giocatori il giocatore numero 1 che voglio analizzare è il bomber della piccola squadra il bomber della piccola squadra ti può portare in dote circa 10 gol in una stagione il problema è che spesso e volentieri appunto giocando in squadre che spesso vanno a finire per perdere la partita quando non è 10 gol mettiamo 7 della pagella più il 3 quindi un bonus da 10 un voto totale quanta calcistico di 10 punti quando non ha in dote questi 10 punti spesso succede invece che per le restanti partite il voto suo sia 5, 5,5 capisci bene che sicuramente è molto utile quando segna però è altrettanto sconveniente quando porta dei 5 questo perché? perché è vero che il fantacalcio si vince con i bonus ma attenzione che si perde anche con i malus o con base voto molto basse è altrettanto vero che se un giocatore prende molte volte 5 e poche volte invece 10 perché segna quelle volte che prende 5 ci ritroveremo con un malus di un punto rispetto al 6 di media di una valutazione standard e quindi partiremo già con un handicap è quindi molto probabile che avendo il giocatore in squadra così tu decida anche di lasciarlo in panchina perché? perché questi tipi di giocatori sono molto difficili da gestire magari li metti quando giocano contro altre squadre piccole e non segnano e invece vanno segnati quando tu probabilmente non li metteresti mai contro grandi squadre quindi il mio consiglio qual è? ok non sono male questi giocatori comunque dei bonus li portano ma se puoi vira su giocatori più costanti la tipologia numero 2 i giocatori gli attaccanti costanti li riconosci perché sono quelli che non portano molti gol di solito a fine campionato sono tra i 6 e i 7 gol massimo però anche quando non segnano portano comunque in dote una valutazione base di 6 6 e mezzo questo è molto importante perché? perché come vedi da qua ad esempio a qua e parliamo della maggioranza delle situazioni quindi statisticamente sono più le volte che il bomber della piccola squadra non segna quindi su 38 partite mettiamo un gol a partita per 10 partite raggiungiamo 10 gol le restanti 28 partite la valutazione tendenzialmente sarà appunto di 5, 5 e mezzo qualche volta 6 magari a volte 6 e mezzo ma molto raramente proprio se magari fa un assist invece per i giocatori costanti avremo quelle 6 e 7 partite dove segnano e per le altre partite avremo comunque una valutazione tendente al positivo questo vuol dire che appunto per circa 28 partite avremo una differenza tra questi due di bene 1,5 a favore dell'attaccante costante ecco perché io ti consiglio caldamente di puntare su attaccanti costanti perché se è vero che il fantacalcio si vince con i bonus come ti ho già detto prima non è altrettanto vero che si vince anche evitando il più possibile i malus e le cattive prestazioni quindi assolutamente possiamo fare un esempio per categoria un esempio che tra l'altro mi è molto vicino perché entrambi i giocatori li ho nella squadra con cui poi ho vinto la mia lega tra amici io partecipo a più fantacalcio e uno di questi l'ho vinto anche grazie alle prestazioni di questi due giocatori ti dico già subito come avrai capito il mio preferito come attaccante costante è Torregrossa che ho schierato titolare in più situazioni mentre come bomber della piccola squadra ho Simeone ecco questi due calzano a pennello questa tipologia di giocatore infatti Torregrossa media voto classica circa 6,25 adesso dato più dato meno con i gol arriviamo a una fanta media del 7 Simeone stessa fanta media Simeone ha fatto quasi il doppio dei gol di Torregrossa però cosa succede? che la media classica rasenta il 6 perché? perché Simeone è il tipico centravanti che se non segna difficilmente raggiunge la sufficienza proprio per caratteristiche mentre invece Torregrossa anche se in questo caso gioca in una squadra più piccola diciamo che tra l'altro è retrocessa ha comunque un modo di giocare che aiuta di più la squadra e quindi va a prendere valutazioni migliori capisci bene che se tu giochi in una lega con scontri diretti con competizioni a scontri diretti il classico campionato per intenderci Torregrossa ti permetterà mediamente di avere una valutazione a fine incontro a fine giornata di 1,5 punti in più rispetto a Simeone nel in 28 gare circa 25-28 gare circa su 38 premettendo ovviamente adesso queste sono stime indicative che comunque giochino tutte le partite sappiamo che non è così ad esempio Torregrossa è stato infortunato per un periodo soprattutto all'inizio stagione però statisticamente sappiamo che questi sono i dati sono dati numerici certi quindi quello che ti invito è di puntare per il prossimo fantacalcio o per i prossimi fantacalci come terzo slot o comunque è una regola che può valere anche in generale punta sui giocatori che hanno la media voto costante perché ne beneficerà tutta la squadra avere una costanza di punteggio più alta in tutte le tue giornate in tutta la competizione e tu chi preferisci tra Torregrossa e Simeone? preferisci puntare sui gol dei bomber delle piccole squadre o sui giocatori da meno gol ma più costanti? fammi sapere anche il tuo parere scrivimelo qua sotto se ti è piaciuto il video e l'hai trovato interessante lascia un like iscriviti al canale noi ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale Grazie a tutti.